You can also manually inflate the vest by blowing into the rapid city. Saranno distribuiti i salvagenti per bambini. In caso di necessità dovranno essere gonfiati prima di abbandonare l'aereo. Airbus Life Vests will be distributed. In case of pain, they must be inflating before living in the air. In caso di ambaraggio, i scivoli potranno essere usati come bandelli. In caso di ambaraggio, i scivoli potranno essere usati come bandelli. Durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio non è consentito l'uso di qualsiasi dispositivo entrotto. I telefoni cellulari devono essere tenuti spegnosi per tutta la durata del volo. During taxi, take off and landing, the use of any electronic device is prohibited. Mobile phones must be switched off for the whole point. Nella tasca della poltrona davanti a voi, troverete il cartoncino illustrativo con le norme di sicurezza. Vi invitiamo a prenderti visione attentamente. Vi ricordiamo che non è consentito fumare a bordo dei nostri aerei, incluse le toilette, dove sono localizzati i tre levatori di fumo. Il personale di bordo è perfettamente attestrato per fornirvi tutta l'assistenza in caso di necessità. Smoking is not permitted in any area of the aircraft, including the lavatories. All the lavatories are retrieved with smoke detectors. Our crew is perfectly trained to assist you in any situation. Dimitremi is not permitted in knocking on the bottom. Sono Prova Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.